buongiorno a tutti seduta del 27 luglio sono le 9.33 iniziamo la seduta di oggi vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito del comune di palermo e inoltre saranno pubblicati nel profilo facebook della quarta circoscrizione invito la signora bastona a chiamare l'appello presidente moncada presente consigliere buccola consigliere buonpasso consigliere dentici consigliere di vincenti consigliere lupo consigliere ruggiero presente consigliere schiera consigliere sinopoli presente consigliere tuzzolino presente sei presenti quattro assenti presenti sei assenti quattro la seduta è valida nomino scudatori il consigliere di vincenti il consigliere ruggiero il consigliere sinopoli c'era c'è il verbale ci sono verbali precedenti sì sì quanto c'è uno due 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 stiamo legge sì verbale del 23 luglio l'anno 2020 il giorno 23 del mese di luglio in palermo si è riunito il consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73 comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 ed ai sensi delle circolari numero 8 10 11 dell'assessorato delle autonomie locali regione siciliana nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del presidente del consiglio comunale di palermo e con avviso mail del 26 giugno 2020 e ordine del giorno integrativo con avviso mail del 10 luglio 2020 nonché ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari per procedere alla trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno presiede la seduta il presidente facente funzioni alessandro schiera partecipa in qualità di segretario l'istruttore amministrativo signora manienza bastona il segretario su invito del presidente proceda all'appello al termine del quale risultano presenti otto consiglieri assenti due dentici e moncada presidente facente funzione verificata la presenza del numero legale alle ore 9 e 36 di chi era aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri luco ruggero e tuzzolino invita il segretario a dare lettura dei verbali delle sedute del 21 e 22 luglio ultimo scorso ultimata la lettura il presidente scorre col punto punto all'ordine del giorno invita il segretario a dare lettura della mozione avente per oggetto installazione in tempi brevi del palo di illuminazione pubblica ha dismesso in via pigliamonte dinanzi il pubblico 33 protocollo 388 reginta firma del consigliere di vincenti consigliere di vincenti espone la mozione affermando che in città sono stati dismessi alcuni pali dell'illuminazione pubblica perché pericolanti ma gli stessi non vengono sostituito provocando disagio alla cittadinanza la via in oggetto è abbastanza trafficata sia perché accanto c'è l'asp sia perché vi transitano turisti che vanno verso le catacombe e sia perché vi sono molte scuole pertanto l'amministrazione prima che arriva nell'autunno e o l'inverno si ad opera di installare il palo consigliere buccola anche lui conosce le problematiche relative ai pali dismessi così come tutto il consiglio è interessato al problema e così come tutto il consiglio è interessato al problema come si sa l'amministrazione per problemi legati all'incolumità pubblica ha dismesso in città molti pali ma non sono stati ripristinati perché ogni palo costa centinaia di euro pertanto è favorevole alla mozione affinché sia di spunto per l'amministrazione a completare l'opera consigliere ruggiero concorda con il collega buccola si augura che questo non porta ad una tragedia di annunziata perché molte strade sono al buio e anche perché fino ad oggi su 500 pali dismessi ne sono stati sostituiti solamente lenti in tutta la città è favorevole alla mozione consigliere sinopoli si associa alle considerazioni dei colleghi a questa amministrazione manca la programmazione perché è con la programmazione che si ottengono i risultati e non si creano disagi ai cittadini è favorevole alla mozione consigliere buon passo anticipa il suo voto favorevole si parla sempre di amministrazione assente perché non esiste per nessuna programmazione perché non esiste nessuna programmazione per ogni tipo di intervento nel territorio e per l'incolumità dei cittadini consigliere tuzzolino voterà favorevole lamenta sempre l'assenza dall'amministrazione che non ha più niente da dire ai cittadini vengono tolti 500 pali e ne sono stati sostituiti solo il 10 per cento lasciando la città al buio con i rischi che è composta consigliere lupo voterà favorevole è una situazione abbastanza sentita i tre quarti del territorio della quarta circoscrizione è al buio siccome sa che esistono dei fondi distanziati per il ripristino dei pali cogne l'occasione per chiedere ufficialmente un incontro con il direttore e occhi per lui della amg presidente facente funzione favorevole alla mozione sperando che il comune sia l'opera più peso a dare risposte ai cittadini conclusa la discussione il presidente facente funzione pone in votazione per appello nominale la mozione del qual cui esito è il seguente presente votanti 8 assenti 2 dentici moncada favorevoli 8 astenuti 0 contrari 0 la mozione lettera f avente per oggetto l'installazione in tempi brevi del palo di illuminazione pubblica dismesso in via pindamonte dinanzi civico 33 protocollo 388 rete da firma del consigliere di vincenti viene approvata l'unanimità dei presenti alle ore 10 24 escono dalla videoconferenza i consiglieri bucola e di vincenti si passa la comunicazione consigliere sinopoli comunica che ieri dopo la chiusura della videoconferenza ha ricevuto la mail dell'azienda amg relativa al guasto dell'impianto di illuminazione più volte segnalato e ne dà lettura da cui si evince che una parte è stata riparata ma per eliminare da tutto il guasto si attende un componente che è stato ordinato è stato ordinato mi era saltato ordinato consigliere luca lamenta ancora una volta il mancato servizio di raccolta differenziato per i disabili a borgo molara alle ore 10 e 30 il presidente facendo funzioni dichiara chiusa la seduta passiamo all'altro scusate io sono presente verbale della seduta del 24 luglio 2020 l'anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio in palermo si è riunito il consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza i sensi dell'articolo 73 comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e dai sensi delle circolari numero 8 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali regione siciliana nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del presidente del consiglio comunale di palermo e con avviso mail del 26 giugno 2020 e ordine del giorno integrativo con avviso mail del 17 luglio 2020 nonché ai sensi delle vigenti norme di legge statutari e regolamentari procedere alla trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno presiede la seduta del presidente facenti funzioni alessandro schiera partecipa in qualità di segretario l'istruttore amministrativo signora medienza bastone il segretario su invito del presidente procede all'appello al termine del quale risultano presenti otto consiglieri assenti due lupo e moncada presidente facenti funzioni verificata la presenza del numero regale alle ore 9 40 dichiara aperta la seduta e nomina scutatori consiglieri bucola dentici e tuzzolino chiede la parola il consigliere ruggiero il quale comunica che stamattina con il presidente moncada andranno all'assessorato agli enti locali perché alle ore 10 hanno l'incontro con la dottoressa artizza pertanto lascerà l'aula alle ore 9 43 presidente moncada il quale comunica che si resterà con il consigliere ruggiero all'assessorato e che pertanto lascerà all'aula alle ore 9 46 escono della videoconferenza il presidente moncada e il consigliere ruggiero presidente facenti funzioni procede con lo scorrimento dell'ordine del giorno scorre col quinto punto invita il segretario a dare lettura della mozione indicata con la lettera h avente per oggetto creazione area di sgambamento cani all'interno di villa raiti protocollo 396 regins a firma del consigliere dentici consigliere dentici espone la mozione afferma che sono stati gli stessi cittadini a chiedere di fare questa recensione per lo sgambamento dei cani già esistenti in altre parti della città pertanto avendo fatto un sopralluogo nella villa si è accorta che in una parte di esse si può realizzare l'area per consentire questo beneficio agli animali che potranno essere lasciati liberi senza guinzaglio e senza catena e muoversi liberamente confida nei colleghi consiglieri per l'approvazione della mozione consigliere tuzzolino obiettivamente la mozione è abbastanza valida infatti molti cittadini chiedono di poter sfruttare alcuni spazi inutilizzati e renderli fruibili allo sgambamento dei cani e considerato che il parco casserà tutt'oggi non è fruibile bisogna trovare soluzioni alternative trovare altri spazi è favorevole alla mozione consigliere bucola favorevole alla mozione pur essendo animali domestici hanno bisogno di stare all'aria aperta e a contatto con la natura consigliere sinopoli la mozione è abbastanza interessante perché permette agli animali di avere uno spazio tutto loro dove tra loro possono rincorrersi e fare i propri bisogni senza andare a disturbare o a creare delle problematiche che come si sa sono i marciapiedi sporchi ma non è l'animale che è sporca ma il padrone è favorevole alla mozione consigliere di vincente favorevole alla mozione opportuno che era bastone si prego scusi no il padrone che è sporca nel senso che il padrone deve raccogliere non pulisce non pulisce il padrone che non c'è il senso era questo consigliere di vincente favorevole alla mozione opportuno che nella zona vi sia uno più spazi dedicata agli amici a consigliere buon passo il suo voto sarà favorevole a nascettico per la sua realizzazione da parte dell'amministrazione presidente facendo funzione favorevole alla mozione spera che il comune si adopera più presto a dare risposta ai cittadini concluse la discussione presidente prima della votazione sostituisce nella qualità di sfruttatore il consigliere identici con il consigliere sinopoli pone in votazione la mozione per appello nominale presente votanti otto assenti due ruggere mancata favorevoli otto astenuti zero contrari zero la mozione lettera h avente progetto creazione aria di sgambamento canne all'interno di villa raidi protocollo 396 regginta firma del consigliere identici viene approvata all'unanimità dei presenti alle ore 10 il presidente facendo funzionale dichiare chi sta la seguita e dopo non c'era perfetto e allora prima di iniziare i lavori chiedo al consigliere ruggiero di dare notizie dell'incontro di verdi con la dottoressa rizza sì presidente buongiorno colleghi consiglieri e allora l'incontro con la dottoressa rizza diciamo è stato un po confusionario nel senso che è stato rimandato credo ad oggi se poi sarà data conferma in quanto è stato preferito rimandare dalla parte della dottoressa rizza l'incontro per farci incontrare con coloro che sono occupate alla diffida quindi della parte esecutiva che gestisce tutto quello che riguarda le azioni dell'assessorato l'unica cosa che abbiamo capito in linea di massima ma chiederemo conferma diceva lei che palermo anzi rispetto alle altre città che hanno chiesto di applicare il decentramento eh praticamente è un po più avanti perché il regolamento eh a su dire è completo loro comunque non non entrano in merito a questo quindi danno per buono e scontato quello che ad oggi è stato è stato fatto eh alle nostre domande sia del presidente eh tutto praticamente viene rimandato perché praticamente la parte esecutiva quel giorno che era il signor Lopresti e abbinanti mi paro abbinati eh non erano presenti perché erano fuori per una missione fuori dal comune di palermo quindi attendiamo oggi conferma se sarà fissato il nuovo incontro per parlare con lo ripeto la parte esecutiva adesso occupato della Dixit va bene ma le altre città Messina già non è esecutiva sta cosa da anni si rimane solo Catania e Palermo io sapevo pure così Messina da novembre da novembre 2017 quindi rimaniamo praticamente noi e Catania almeno che io sappia poi oggi ne capiremo di più oggi la parte esecutiva dovrebbe darci la chiarezza assoluta eh di tutto questo perché sono praticamente questo gruppo di persone che si è occupato della vicenda e di tutti i vari passaggi come normalmente voi sapete dico noi abbiamo chiesto comunque sia che i trenta giorni sono passati dalla diffida che loro hanno inviato al comune quindi chiedevamo eh materialmente spiegazioni su come l'assessorato oggi volesse interpretare quello che ha scritto e quello che dovrebbe fare praticamente comunque eh diciamo la parte esecutiva dovrebbe elevarci qualsiasi dubbio quindi diciamo che oggi eh siamo nella stessa fase in cui ci siamo lasciati con un passaggio in più che parleremo con ripeto la parte esecutiva di della distinta quindi coloro che si sono occupati di questo va bene allora iniziamo i lavori eh abbiamo all'ordine del giorno inserito nell'integrativo il i lavori del sottopasso di via Perpignano eh proprio ieri credo è passato un mese dal tragico incidente in cui è stato coinvolto un ragazzo di 17 anni che attraversando la strada è stato preso in pieno da una macchina che transitava via la regione nelle ore notturne eh questo ha posto ovviamente eh l'accento sulla insicurezza della strada e sul fatto che lì bisogna comunque porre dei rimedi perché eh il transito veicolare in quella zona impedisce ai pedoni di attraversare quindi eh la strada ovviamente alle ore notturne è molto pericolosa a seguito delle lamentele dei cittadini delle ovviamente eh dell'amarezza dei genitori del ragazzo del dolore e a seguito del dibattito che si è aperto in consiglio soprattutto con gli interventi del consigliere Bonpasso e del consigliere eh Lupo io ho inviato una mail al all'ingegnere architetto di Bartolomeo per capire i fondi che sono stati inseriti nel patto del Palermo eh che fine avessero fatto. Finalmente ho avuto risposta e ho diciamo appreso che effettivamente i soldi ci sono ancora che è stata già fatta la la gara d'appalto per la progettazione eh per la progettazione eh definitiva e esecutiva per la direzione dei lavori e per la sicurezza ma paradosso dei paradossi questa eh questa gara che è stata che è scato è stata eh pubblicata il 25 gennaio del 2019 ed è stata con scadenza 5 aprile 2019 praticamente eh la commissione che doveva giudicare eh le offerte che avevano pervenute non si è mai riunita sostanzialmente. A seguito della mia mail eh l'architetto di Bartolomeo eh ha sostituito con determina dirigenziale il il RUP che era eh l'ingegnere Antonino Musso eh che è stato nel frattempo trasferito altro ad altro ente eh lo ha sostituito con l'ingegnere De Marinis il eh no con l'ingegnere in Travaia e a supporto l'ingegnere De Marinis e l'ingegnere Cagnoso eh in più eh proprio l'ingegnere in Travaia appena insediato ha inviato una mail per sollecitare la ripresa delle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione. Ovviamente questo denota mh la scarsa efficienza degli uffici comunali ma penso che eh diciamo le nostre sollecitazioni siano state anche da pungolo verso il eh il settore competente che ha sostanzialmente eh attivato nuovamente le procedure per rimettere in campo l'opera. Quindi a seguito di queste mh considerazioni io ho predisposto un ordine del giorno che vi sottoperrò per il voto in modo tale da capire se possiamo eh diciamo in tempi brevi eh procedere alla eh pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori per la realizzazione appunto del sottopasso. Quindi vi leggo subito. Mi scusi Presidente non non l'ho sentito l'ultima parte che è andata via la voce. Eh proporrà un ordine il giorno? Per eh sollecitare i lavori eh per sollecitare l'avvio della gara d'affalto per eh la la realizzazione del sottopasso di via Perpignano. Allora ordine del giorno progetto sottopasso via Perpignano. Il Presidente della quarta circoscrizione visto quanto previsto dal regolamento per il funzionamento dei consigli circoscrizionali articolo diciannove comma uno e seguenti prima che si chiuda la discussione generale ogni consigliere può presentare ordine del giorno su documenti di discussione premesso che in data trenta aprile duemila sedici è stato sottoscritto fra il Presidente del Consiglio protempore Matteo Renzi e il Sindaco di Palermo Leo Luca Orlando il Patto per lo sviluppo della città di Palermo dove sono state inserite due opere strategiche e fondamentali per la città di Palermo quali la costruzione del sottopasso di via Perpignano e il raddoppio del Ponte Corleone. Le opere in questione sono state finanziate in parte con fondi Exagen Sud e in parte con fondi FSC. Nello specifico con la firma del patto sono state trasferite alla città di Palermo Euro 5.336.045,39 per la realizzazione del sottopasso di via Perpignano ed Euro 4.663.954,61 per la costruzione del nuovo ponte Corleone. Il Comune di Palermo così come è stabilito durante il comitato di indirizzo e di controllo svoltosi il 6 aprile duemila diciassette ha avviato le procedure per l'affidamento della progettazione di entrambe le opere. Sulla scorta di un progetto redatto da professionisti interni in data 25 gennaio 2019 è stato pubblicato con scadenza 5 aprile 2019 il bando di gara per l'affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo, di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza. Ad oggi dalla data di scadenza del 5 aprile 2019 la seduta di commissione di gara per l'apertura delle offerte pervenute è stata rinviata a data da destinarsi. Tenuto conto che in data 21.6.2020 proprio nel tratto di viale regione siciliana altezza via Perpignano si è verificato l'ennesimo incidente mortale in cui ha perso la vita un ragazzo di appena 17 anni travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Tenuto conto che a seguito dell'ennesimo incidente mortale su sollecitazione di alcuni consiglieri ed in particolare del consigliere Piero Bompasso e del consigliere Salvatore Lupo e sentite le lamentele dei familiari della vittima non chiedi numerosi cittadini che denunziavano la mancata la mancanza assoluta di sicurezza dell'incrocio. Lo scrivente ha inviato una mail al capo aria ingegnere architetto di Bartolomeo con la quale si chiedeva di conoscere modi e tempi di attuazione del progetto realizzazione sottopasso di via Perpignano inserito nel patto per Palermo e già finanziato. Probabilmente anche a seguito dei fatti avvenuti e della successiva richiesta di notizie della quarta circoscrizione in data 6 luglio 2020 è stata pubblicata la determina dirigenziale 6321 a firma del capo aria ingegnere architetto Nicola Di Bartolomeo con la quale sono stati nominati l'ingegnere Edoardo Intravaia, l'architetto Filippo Marines e l'esperto geometra Marco Cagnoto rispettivamente RUP e funzionari di supporto al RUP per i lavori di costruzione del sottopasso di via Perpignano in sostituzione dell'ingegnere Antonio Musso trasferitosi presso altro ente. Tenuto conto che in data 13 luglio 2020 il RUP del progetto ingegnere Intravaia rappresentando l'urgenza di definire la fase progettuale dell'intervento per avviare la gara dei lavori ha sollecitato via mail la ripresa della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione. Ritenuto che la realizzazione del sottopasso di via Perpignano sia un'opera pubblica di importanza strategica per lo sviluppo della città è assolutamente necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità. Il consiglio della quarta circoscrizione delibera l'approvazione del seguente ordine del giorno finalizzato alla realizzazione in tempi brevi del sottopasso di via Perpignano secondo questo cronoprogramma. Una, aggiudicazione immediata della gara d'appalto scaduta il 5 aprile 2019 per l'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza. Due, pubblicazione del bando di gara relativa alla realizzazione dell'opera. Tre, realizzazione dell'opera. Mi pare che ci siano tutte le motivazioni per poter procedere con la realizzazione di quest'opera che, come ho detto, metterebbe fine alla pubblica incolumità, al pericolo relativo alla pubblica incolumità, ma soprattutto consentirebbe realizzare un'opera strategica e fondamentale per il nostro territorio, ma io direi anche per tutta la città di Palermo. Quindi ho creduto opportuno, come fra l'altro avevamo pure concordato nelle sedute precedenti, anche a seguito degli interventi in aula relativi all'argomento, quindi mi pare che ci siano tutte le condizioni per poter portare avanti quest'ordine del giorno e sollecitare gli organi competenti a realizzare l'opera in tempi brevi. Io ho terminato, apriamo il dibattito sull'argomento. Ci sono interventi? se il consigliere Buonpasso che forse ha avuto problemi di connessione. Consigliere Buonpasso? Presidente, mi sente? Sì, adesso sì. Voleva intervenire? Pronto? Voleva intervenire sull'argomento? Sì, Presidente, intanto volevo fare un applauso a lei per questa nuova risposta che ci ha dato immediata. Speriamo vero che a più breve tempo possibile si possa realizzare. Ora in questi giorni lo comunico pure ai cittadini e a qualche familiare di quel bambino scomparso qualche mese fa. Sarà una notizia bellissima, ma anche perché oggi, dopo quello che ho sentito, possiamo dire che se è vero venga realizzato. È tutto grazie a noi e al nostro impegno. Sono meravigliato, Presidente. Come ogni volta sono sconcertato di tante situazioni brutte, questa volta sono meravigliato. Grazie per l'interesse. Grazie, consigliere. Buon passo. Noi stiamo cercando di accelerare quanto più possibile i tempi, perché purtroppo la pratica si era fermata nei meandri della burocrazia. Speriamo di essere stati d'aiuto per lo sblocco di quest'opera, perché effettivamente è un'opera importante e fondamentale. Signor Presidente, posso intervenire? Prego. Signor Presidente, io in un certo senso sono un po' allegrato che magari dopo tanti anni qualcosa si sta muovendo. Però nello stesso tempo sono giste perché si ci poteva pensare prima e avremmo evitato molte disgrazie. Perché in questo certo di strada in via Perpignano, se la memoria non mi tradisce, sono morte un'otto persone, dieci persone. Quindi a Palermo, se prima non succedono le disgrazie, il comune, l'amministrazione comunale, non interviene. Su questa amministrazione appunto manca sempre la tempistica, la programmazione, che ogni volta devono succedere sempre questi eventi cristi. Allora, forse sarà anche la volta buona, arrivata a questo punto, una volta che già come dice lei, che magari forse fa parte sempre dello stesso progetto, anche se ci sono due finanziamenti. Uno di 5 milioni e rotti per i sottopassi e uno di 4 milioni e rotti per il doppio, per la doppia strada che bisogna, che si deve costruire nel Ponte d'Ordeone, le due bratelle. Speriamo che queste opere più presto vengono fatte anche per dare risposta ai cittadini e dopo, facendo queste opere, diciamo, la circoballazione di Palermo ne giocherebbe, sia dal punto di vista del traffico, perché veramente sul ponte, sul Ponte d'Ordeone, come benissimo sappiamo, c'è anche un divieto di velocità che non bisogna superare i 30 km orari perché so che il ponte ha dei problemi strutturali, quindi più presto si fa anche questa opera, meglio è. Comunque, io la ringrazio perché è stato molto sensibile nell'accelerare i tempi nella presentazione di questa nostra richiesta, così mettiamo eh con le spalle al muro l'amministrazione eh alle proprie responsabilità. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Lupo, grazie a voi per l'impegno che mettete nel territorio che certamente è fondamentale per cercare di risolvere i problemi. anche Presidente, perché voglio aggiungere una cosa, se mi permette, mi può dare la parola. Prego, prego. Dico, sotto questa discussione del ponte di via Perpignano, c'è chi ne ha fatto anche una questione politica delle disgrazie delle persone. Noi oggi siamo arrivati al punto di poter dare una risposta, una risposta valida, scelta, in quanto ho visto molti esponenti della politica. Presidente, farne solo una questione politica. Invece noi abbiamo messo cuore impegno per chiamare il nostro territorio. Questo lo volevo specificare. Grazie. Grazie Consigliere Lupo. E sarò oggi subito io il primo a scendere nel territorio perché conosco tutte le persone che mi hanno chiamato e dare questa nuova comunicazione. Senza né telegiornale, Presidente, e neanche giornali su Facebook. Grazie. Adesso ovviamente a fine seduta io apporrò la firma digitale all'ordine del giorno, se verrà approvato, e poi lo invio a tutti così per darne anche voi ampia comunicazione. Ci sono interventi? Sì, posso, Presidente? Consigliere Tuzzolino, prego. Sì, solo per dire che sembra esserci un'area nuova per quanto riguarda questa opera importante. Credo ci siano tutte le condizioni. Ci sono i soldi, ci sono gli incarichi, ci sono tutte come dire, i preamboli perché veramente si inizi un lavoro che purtroppo aspettiamo da tanti anni. Quindi accogliamo con aria nuova anche questa nuova situazione, quindi possiamo solo che apprezzare quello che sta accadendo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno è scritto come sempre con attenzione, puntualità e con competenze. Non ci resta altro che dare l'approvazione positiva. Grazie. Grazie, Consigliere Tuzzolino. Signor Presidente, posso fare un altro piccolo intervento in merito, più che altro un suggerimento? Prego. Grazie, Presidente. Allora, io poco fa parlavo di prevenzione. Allora, vorrei fare un suggerimento a questo Consiglio e anche a lei come Presidente di richiedere pure per quanto riguarda la pulizia e per quanto riguarda anche togliere i deciti, la manutenzione, la riapertura dei sottopassi di via Altofonte e via Gustavo Roccella. Perché non è che dobbiamo aspettare ora un'altra disgrazia che dopo l'amministrazione comunale si arriva ad attivare per l'apertura dei sottopassi. Io giorni fa ho trovato una relazione tecnica della Reset fatta quando è stato fatto i sovralluoghi mi pare nel settembre del 2018, signor Presidente. Quindi io le vorrei suggerire una volta che già abbiamo presentato, che ora la voteremo, questa nostra richiesta per iniziare a fare partire subito i lavori per il sottopasso di via Perpignano. Anche quelli per i sottopassi di via la regione siciliana, sarebbe via Altofonte e via Gustavo Roccella, per come lei sa che ci sono gravi problemi strutturali anche. Quindi i cittadini si trovano a saltare i guarda-rail per poter attraversare la circolazione. Quindi diciamo che fortunatamente fino a questo momento non è successa nessuna disgrazia. Perché questo attraversamento, Presidente, è strategico. perché i ragazzi che vanno al curso Palermo, e ce ne sono molti, quindi i ragazzi che dalla zona di Pagliarella attraversano pure per andare a scuola, perché ci sono scuole medie e scuole superiore, ogni mattina appunto rischiano la vita. Quindi a che noi abbiamo, come si soltite, questa cosa che già abbiamo iniziato, su quanto riguarda la pericolosità del fatto della circolazione, possiamo inserire e fare richiesta anche ufficialmente e pubblicamente all'amministrazione di fare sbloccare anche i lavori nei sottopassi interessati. Soltanto questo, Presidente. Prima di dare la parola al Consigliere Ruggero, ovviamente parliamo di due cose diverse, perché l'opera del sottopasso rientra fra i fondi del fatto per Palermo, eccetera. La bonifica, la messa in sicurezza dei sottopassi di via Gustavo Rocella e di via Altofonte rientrava in un finanziamento che era inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, che abbiamo sollecitato più volte, ma obiettivamente non abbiamo notizie in merito, quindi possiamo ulteriormente sollecitare, ma lo abbiamo fatto decine di volte, quindi speriamo che l'amministrazione sia sensibile pure per questo. Consigliere Ruggero, prego. Sì, grazie Presidente. Anch'io voglio accogliere in maniera positiva, sperando nella risoluzione dopo anni e anni di continui rinvii e continui progetti che rimangono sempre il dimenticatorio dell'amministrazione per vari motivi, a volte per colpe, a volte per situazioni che non dipendono dall'amministrazione. Tra altre cose, giustamente, come diceva il Consigliere Lupo, questo dovrebbe porre oggi anche attenzione sugli altri sottopassi che, come ben sappiamo, dopo l'ultimo incontro fatto con tutte le partecipate comuni di Palermo, ancora rimangono, soprattutto quello vicino alla zona Pagliarelli, abbandonato a se stesso. Quindi non posso essere intanto grato e ringraziarla per il documento redatto, sempre con la perfezione che la contraddistingue. Quindi grazie di questo e voterò sicuramente favorevole a tutto quello che riguarda il benessere e la sicurezza dei cittadini. Grazie, grazie. Nuovi interventi? Consigliere Sinopoli, Consigliere Dentici, Consigliere Buccola, Vicepresidente, ma il Vicepresidente non c'è. È andato via. Va bene. Presidente. Consigliere Sinopoli, prego. Sì, veramente non volevo intervenire, però dirò in questo caso anche la mia, dicendo che non è bello sentire che una cosa così importante per la viabilità di Palermo, perché parliamo di via regione siciliana, è che con dei soldi stanziati, con un progetto e quant'altro, quindi diciamo c'è tutto per realizzarlo, sia stato messo nel dimenticatorio. E c'è stato bisogno di solleciti, e dico solo questo, non voglio dire altro perché mi fermo solo a questo, per attirare di nuovo l'attenzione e rimettere in gioco quella che è la problematica seria, da tutti i punti di vista. e quindi che dire, io mi auguro che questa cosa accetto, come si vuol dire, con una notizia positiva, quella che si rimette in gioco tutto, a quanto ho sentito da lei, diciamo, c'è quasi tutto pronto per poter mettere in atto i lavori e quindi realizzare questo sottopasso. Io mi auguro che sia così, io mi auguro che anche questa volta non sia una bolla di sapone come altre strutture, come giustamente diceva lei, il discorso che sollecitava il consigliere Lupo sui sottopassi è un altro discorso, ma anche quello è un grave tema da noi affrontato diverse volte, sollecitato da lei, sopra luoghi, confronti con assessori e compagnie bella anche là tutto fermo. Qua, diciamo, ripeto, al contrario di là ci sono i soldi, c'è tutto, quindi mi auguro stavolta, Presidente, nel giro di qualche mese che si possa cominciare a iniziare questo cantiere affinché la città, diciamo, ne tragga beneficio e si eliminino tutte quelle problematiche che noi sappiamo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno stiato da lei, nulla da dire, voterò favorevole. Grazie. Grazie, Presidente. Sinopoli, consigliere Dentici, prego. Sì, anch'io comunque, come ha appena detto il collega Sinopoli, auspico affinché comunque questi strumenti, questo strumento che ha appena letto lei, possa essere realmente portato avanti e non siano soltanto appunto progetti campati in aria e soltanto appunto parole al vento, ma che vengano concretizzati perché purtroppo spiacevano gli incidenti e non dovrebbero succedere e quindi questo comune deve ancora di più responsabilizzare nel mandare avanti delle opere, dei progetti che comunque siano realmente indispensabili e fondamentali per un comune come Palermo o come qualunque altra realtà. Quindi sarò appunto concordo e favorevole a ciò che è appena stato visionato e letto. Grazie. Grazie consigliere Dentici. Spera solo il consigliere Buccola doveva intervenire, se voleva intervenire, prego. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, signori segretari, anche io, ma sto suoi interventi recentemente fatti e colleghi consiglieri che sono intervenuti. La mia dichiarazione di voto voterò favorevole alla nozione, anche se diciamo con la mano in bocca, non per l'importanza della mozione, ma perché appunto occorre che il consiglio della quarta circostrizione abbia dovuto pensare a un'opera così importante e in una strada, un'arteria tra le più trafficate e peribolosa d'Italia e tra le più trafficate d'Europa. Comunque non di meno a questo voterò favorevole. Grazie. E poi fra le altre cose evidente ricade pure nella quinta, quindi non è tutta quarta. Sì, sì, infatti è a cavallo tra la quarta e la quinta. Diciamo che via della regione è un po' di tutto, è un'opera fondamentale. Va bene, allora grazie del dibattito, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l'ordine del giorno, così come eletto, per appello nominato. Presidente, mi scusi, il consigliere Di Vincenti era scrutatore, è assente. Ho lasciato la seduta. Sì. Sostituisco il consigliere Di Vincenti o il consigliere Buccola. Presidente Moncada. Favorevole. Consigliere Buccola. Favorevole. Consigliere Buonpasso. Favorevole. Consigliere Dentici. Favorevole. Consigliere Di Vincenti. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero. Favorevole. Consigliere Schiera. Favorevole. Consigliere Sinopoli. Favorevole. Consigliere Tucciolino. Favorevole. Presenti 9, votanti 9, votano a favore 9. Presenti 9, favorevoli 9, assenti 1. L'ordine del giorno è approvata all'unanimità dei presenti. Allora, proseguiamo con le comunicazioni, anche perché io dopo dovrò andare via, proprio per quanto diceva il Consigliere Ruggero, per andare agli enti locali per la questione del decentramento. Quindi, se ci sono comunicazioni, vi facciamo di seguito. Sì, presidente, io volevo fare qualche comunicazione, volevo capire per tutti questi danni che sono stati causati dall'alluvione. Abbiamo qualche novità in merito a tutto quello che è successo e che io ho citato, in via P3 segnalato, messo in sicurezza, le strade ribaltate, aperte a metà. Dico, già ci sono stati due incidenti a bocca di falco, che il manto stradale si è stato messo in sicurezza, ma noi sappiamo i mezzi che vengono usati per mettere in sicurezza, due paletti di ferro, un po' di rete. Dico, possiamo capire, presidente, magari se c'è qualche programmazione in merito, se c'è qualcosa. E qua parliamo di una strada che è aperta a metà, al centro, di un marciapiede aperto al civico 174. Dico, capisco tutte le problematiche, magari se si può informare, la prossima volta ne parliamo. Grazie. Consigliere Bonpasso, allora, relativamente alla bonifica e alla pulizia, ancora la RAP sta lavorando, ha lavorato per tutta la settimana in via alla Falconara, oggi dovrebbe completare la piazza di Baida con la rimozione di detriti, la pulizia con l'idropulitrice della strada di via alla Falconara, che vi possa assicurare ha subito dei danni notevoli. Probabilmente ci sono parlato anche tanto, giustamente, di via della regione, ma i mass media non hanno tenuto in giusta considerazione i danni che sono stati subiti dai cittadini nella zona di Baida, a bocca di falco, che effettivamente è stata messa in ginocchio proprio dall'alluvione. Per quanto riguarda la problematica dell'asfalto, io vi invito a mandare eventualmente una richiesta con una foto specifica, perché molti di questi interventi, cioè tutte le criticità che ci sono state nel manco sociale e nei marciapiedi sono state segnalate, tanto è vero che sono tutte, diciamo, transennate. Ora, il problema è capire la competenza, perché molte di queste buche che si sono, diciamo, verificate, sono di competenza di AMAP, perché sono relative al cedimento del collettore segnario o della rete idrica. Quindi, se mi mandate una foto specifica col punto preciso, vediamo di fare degli interventi mirati, delle richieste mirate, in modo tale da capire chi è che deve intervenire, diciamo, secondo la propria competenza. Ok, grazie. Prego, consigliere Bonpasso. E allora, ci sono altri interventi? Bene, allora, non ci sono... Sì, signor Presidente. Continuere Lupo, prego. Sì, no, no, volevo sapere io, soltanto se ha risposta dalla Reset o dalla Cap, per quanto riguarda il disturbo, in via Altofonte Alta, in via, in via è stata vicina alle Badami, non si vede più nessuno, quindi so che era stato programmato per Comaresa, però la Pialtofonte non è stata fatta, e neanche l'ha stata vicina alle Badami. So che lei ha mandato una nota a la Reset, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Sì, ok, in programma per questa settimana, quindi dovrebbero intervenire questa settimana. Così mi è stato... Ok, grazie. Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la seduta, invito la signora Bastone a interrompere la video registrazione. La seduta è chiusa e riaggiornata domani mattina alle ore 9.30. Buona giornata. Buona giornata.